Il progetto è un progetto che verrà presentato il 28 settembre ma comincerà già dal 18 settembre a essere presente nella larga distribuzione e andrà a finanziare con l'acquisto della pasta fresca la formazione di tanti ragazzi della scuola Caldus che sarà nel nostro futuro. Con l'espediente e l'escamutace della larga distribuzione questo progetto temporaneo di tre mesi che durerà fino a dicembre servirà per finanziare con i proventi ricavati dall'acquisto del pacchetto la formazione di tanti ragazzi che sarà nel nostro futuro. La motivazione che mi ha portato a scegliere la pasta fresca ripiena come mezzo di comunicazione appunto il motivo è presto detto. La pasta fresca è sempre meno utilizzata in maniera qualitativa sulla larga distribuzione e anche sfortunatamente nei pastifici che stanno scomparendo. Quindi questo è una sorta di messaggio che deve servire per mostrare che l'italianità e la pasta fresca è un qualcosa di prezioso e che deve essere ripreso prima che ci sfuga poi di mano. Questo come con due prodotti che sono chiamati simbolicamente tortello e raviolo ma che alla fine includono il concetto della pasta ripiena. Abbiamo deciso di concepire due ricette, una un po' più esotica tendente all'Oriente e un'altra più italica per far riflettere le persone, farle viaggiare magari con un morso e sapere che grazie a questa pasta fresca si potranno formare nuovi cuochi che saranno il nostro futuro e questi nuovi cuochi saranno messaggeri di rispetto, di umanità, di interazione interculturale fra italiani nati sul suolo italiano, da madre italiana o anche da altre etnie. Quindi un po' di rispetto ci vorrebbe a tavola. Grazie a tutti.